Olenka, figlia dell'assessore di collegio a riposo Plemyannikov, se ne stava seduta in cortile sul terrazzino pensierosa. Faceva caldo, le mosche erano fastidiose ed era tanto piacevole pensare che presto ormai sarebbe stato sera. Da Oriente avanzavano scure nuvole gravide di pioggia e di là veniva ogni tanto un soffio umido. In mezzo al cortile stava Kukin, impresario e titolare del teatrino all'aperto Tivoli che abitava nello stesso cortile in un'ala della casa e guardava il cielo. Di nuovo, diceva disperato, di nuovo pioverà. Ogni giorno piozza, sembra fatto apposta. Ma questo è un nodo scorsoio e la rovina ogni giorno sono perdite spaventose. E gli giunse le mani e continuò, rivolgendosi ad Olenka. Eccovi, Olga Semionovra, la nostra vita. C'è da piangere. Lavori, ti sforzi, ti arrovelli. La notte non dormi. Pensi sempre come far meglio. Ebbene, da un lato il pubblico, ignorante e selvaggio, gli do la migliore delle operette, una ferie dei superbi canzonettisti. Ma forse ci vuol questo per lui? Forse che ci capisce qualcosa. Per lui ci vuole il baraccone. Dagli delle volgarità. Altro lato, dettate uno sguardo al tempo. Quasi ogni sera piove. Come se messo fin dal 10 maggio, così è stato poi per tutto maggio e giugno. È semplicemente un orrore. Il pubblico non viene. Ma io lo pago pure, il fitto. Gli artisti, li pago. Il giorno dopo, verso sera, tornavano ad avanzarsi delle nubi. E Kukin diceva, sghignazzando istericamente. Ebbene, sia pure. E non di magari tutto il giardino. Magari anche me. Che io non possa aver felicità, né in questo mondo né nell'altro. Che gli artisti mi citino davanti al tribunale. Ma cos'è il tribunale? Mi mandino magari ai lavori forzati, in Siberia. Magari al patibolo. E il terzo giorno fu la stessa cosa. Ollenka ascoltava Kukin in silenzio, tutta seria. E accadeva che le spuntassero negli occhi le lacrime. Alla fin fine le disgrazie di Kukin la commossero. Ed ella prese ad amarlo. Egli era piccolo, di statura, scarno, con una faccia gialla. I capelli tirati sulle tempie. Parlava con un'esile vocetta da tenore. E quando parlava storceva la bocca. E sul viso aveva sempre dipinta la disperazione. Ma tuttavia aveva suscitato in lei un vero, profondo sentimento. Ella amava di continuo qualcuno. E di ciò non poteva fare a meno. Prima aveva amato il suo babbo, che ora se ne stava malato in poltrona, in una camera buia, e respirava affannosamente. Aveva amato sua zia, che talora una volta ogni due anni, arrivava da Bryansk. E ancora prima, quando studiava nel ginnasio inferiore, aveva amato il suo insegnante di lingua francese. Era una signorina quieta, buonaria, con uno sguardo mite e dolce, molto sana. Nel guardare le sue guance pienotte e rosee, il suo morbido collo, bianco, con un neo scuro, il buon sorriso ingenuo, che aveva sul volto, quando ascoltava qualcosa di gradito, gli uomini pensavano. Sì, non c'è male. E sorridevano anch'essi. E le signore in visita non si potevano trattenere dal prenderla ad un tratto per la mano nel mezzo della conversazione, dicendole in un modo di piacere «Anima cara». La casa in cui abitava dal giorno della nascita e che nel testamento era stata messa in capo a lei, si trovava alla periferia della città, nel soborgo degli zingari, non lontano dal giardino Tivoli. La sera e la notte ella poteva udire come nel giardino sonasse la musica e scoppiassero i razzi, crepitando. E le pareva che fosse Cucchi che gareggiava col proprio destino e prendeva d'assalto il suo principale nemico, il pubblico indifferente. Il cuore dolcemente le si stringeva. Ella non aveva più nessuna voglia di dormire. E quando verso il mattino egli tornava a casa, lei picchiava piano sulla finestrina della propria camera e mostrandogli attraverso le tendine solo il viso e una spalla, sorrideva carezzevole. Egli le fece proposta di matrimonio e si sposarono. E quando lui levite bene il collo e le spalle pianotte e floride, giunse le mani e proferì «Anima cara». Egli era felice, ma poiché il giorno delle nozze e nella notte di poi era piovuto, dal suo viso non spariva un'espressione disperata. Dopo le nozze fecero buona vita. Ella gli stava alla cassa, sorvegliava l'ordine del giardino, annotava le spese, pagava gli stipendi e le sue guanze rosee e il suo gentile, ingenuo sorriso, simile a uno splendore, balenavano ora al finestrino della cassa, ora dietro le quinte, ora al buffet. Ed ella già diceva ai suoi conoscenti che la cosa più meravigliosa, più importante e necessaria al mondo era il teatro e che provare un vero godimento e diventare istruiti umani era possibile solo a teatro. Ma forse che il pubblico capisce questo, diceva. Per lui ci vuole il baraccone. Ieri da noi si dava Faust alla rovescia e quasi tutti i palchi erano vuoti. Ma se io e Ivanička avessimo messo in scena una qualche volgarità, credetemi, il teatro sarebbe stato pieno zeppo. Domani io e Ivanička daremo Orfeo all'inferno. Venite. E quel che diceva del teatro e degli attori Kukin lo ripeteva anche lei. Disprezzava il pubblico al pari di lui. Lo disprezzava per la sua indifferenza verso l'arte e per la sua ignoranza. Interveniva nelle prove, correggeva gli attori, sorvegliava il contegno dei musicanti e quando nel giornale del luogo si davano sul teatro giudizi negativi, allora piangeva e poi andava in redazione a dare spiegazioni. Gli attori le volevano bene e la chiamavano Io e Ivanička e Anima Cara. Lei li compiangeva e faceva loro piccoli prestiti e se accadeva che li imbrogliassero piangeva soltanto di soppiato ma non si lagnava col marito. Anche nell'inverno vissero bene. Avevano preso in fitto il teatro civico per tutto l'inverno e lo cedevano per brevi periodi, ora a una compagnia piccolo-russa, ora a un prestigiatore, ora a dilettanti locali. Olenka ingrassava ed era tutta raggiante dal piacere. Invece Kukin dimagriva e ingialliva e si lagnava di perdite spaventose sebbene gli affari per tutto l'inverno non fossero andati male. La notte tossiva e lei gli faceva bere decotto di lamponi e di fiori di tiglio. Lo strofinava con acqua di colonia, lo avviluppava nei suoi morbidi scialli. Come sei buono diceva con tutta sincerità accarezzandogli i capelli. Come sei bello. Durante la quaresima egli si era recato a Mosca per reclutare una compagnia e lei in sua assenza non riusciva a dormire, stava sempre seduta alla finestra e guardava le stelle. E intanto si paragonava alle galline che anch'esse per tutta la notte non dormono e sono inquiete quando nel pollaio non c'è il gallo. Kukin era trattenuto a Mosca e scriveva che sarebbe tornato per Pasqua e nelle lettere già dava istruzioni riguardo al tivoli. Ma la vigilia del lunedì santo a tarda sera eccheggiarono tutta un tratto dei colpi sinistri al portone. Qualcuno picchiava sul portello come su una botte BUM 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 La cuoca assonnata sguattando a piedi scalzi nelle pozzanghere corse ad aprire. Aprite per favore diceva qualcuno dall'altra parte del portone con voce sorda di basso Un telegramma per voi. Olenka da in passato aveva ricevuto telegrammi dal marito ma ora chissà perché rimase allibita. Con mani tremanti dissigillò il telegramma e lesse quanto segue. Ivan Petrovic mancato oggi improvvisamente. Aspettiamo d'urgezza disposizioni fornerali martedì. Così era stampato nel telegramma fornerali e anche l'incomprensibile parola d'urgezza. La firma era del direttore della compagnia d'operette. Colombino mio si mise a singozzare Olenka Vanicca mio caro Colombino mio perché ti ho incontrato perché ti ho conosciuto e amato da chi hai tu lasciato la tua povera Olenka povera e disgraziata. Kukin fu seppellito il martedì a Mosca a Vagankovo. Olenka tornò a casa il mercoledì e appena entrata a casa sua si abbatte sul letto e prese a singozzare così forte che si udiva nella via e nei cortili vicini. Anima cara dicevano i vicini insegnandosi quell'anima cara di Olga Semionovna poverina come si dispera. Tre mesi dopo Olenka tornava un giorno dalla messa triste in gran lutto. Accadde che camminasse al suo fianco anche lui di ritorno dalla chiesa uno dei suoi vicini Vasily Andreevich Pustovalov direttore del magazzino di legname del mercante Babakaev egli era in cappello di paglia e panciotto bianco con catenella d'oro e somigliava più a un possidente che a un commerciante Ogni cosa ha le sue regole Olga Semionovna diceva egli gravemente con voce di compianto e se qualcuno dei nostri intimi muore vuol dire che così piace a Dio e in questo caso noi dobbiamo dominarci e sopportare con rassegnazione accompagnata Olenka fino al portello egli salutò e andò oltre dopodiché tutto quel giorno lei parve di udire la sua voce grave e appena chiudeva gli occhi le appariva la sua barba scura egli le era piaciuto assai e a quanto pareva anche lei gli aveva fatto impressione perché diria poco venne da lei a prendere il caffè una matura signora che la conosceva poco e che appena postasi a sedere davanti alla tavola senza indugio si mise a parlare di Pustovalov a dire che era una brava e posata persona e che qualsiasi donna l'avrebbe sposato con piacere dopo tre giorni venne a farle visita allo stesso Pustovalov non si fermò a lungo una decina di minuti e parlò poco ma Olenka prese ad amarlo prese ad amarlo tanto che per tutta la notte non dormì e si sentì bruciare come per febbre e la mattina mandò a chiamare la matura signora ben presto ci fu la promessa di matrimonio poi le nozze Pustovalov e Olenka sposatisi facevano buona vita di solito egli se ne stava nel magazzino di legname fino all'ora di pranzo poi se ne andava per affari e lo sostituiva a Olenka la quale rimaneva nell'ufficio fino a sera e là teneva i conti e mandava via la merce adesso il legname rincaro ogni anno del 20% e la diceva ai compratori e ai conoscenti scusate tanto prima noi commerciavamo legname locale ora invece Olenka deve ogni anno andarne a cercare nella provincia di Mogilioff e che tariffe diceva coprendosi inorridita tutte e due le guance con le mani che tariffe le pareva di commersar legname già da tanto tanto tempo le pareva che nella vita la cosa più importante e necessaria fosse il legname e sentiva qualcosa di caro e di commovente nelle parole trave tondello assicelle panconi piane correnti sciaveri la notte quando dormiva sognava intere montagne di tavole e di assi lunghe interminabili file di carri che portavano il legname in qualche posto lontano fuori di città sognava che un intero reggimento di travi lunghe dodici arsigni e larghe cinquanta verschi ritta in piedi muovevano in guerra contro il magazzino che travi panconi e sciaveri si urtavano emettendo un suono rimbombante di legno secco tutto cadeva e si rialzava montandosi addosso a vicenda Olenka gettava grida nel sonno e Pustobalov le diceva teneramente Olenka che hai cara segnati i pensieri che aveva il marito li aveva anche lei se lui pensava che nella stanza facesse caldo o che gli affari in un dato momento li stagnassero neanche lei lo pensava il marito non amava nessuna specie di distrazioni e le feste se ne stava in casa e anche lei e voi siete sempre in casa o nell'ufficio dicevano i conoscenti dovete andare a teatro anima cara o al circo io e Ivanska non abbiamo tempo di andare per i teatri e la rispondeva gravemente noi siamo gente di lavoro non abbiamo il capo alle bazzecole in quei teatri che c'è di bello il sabato Gustovalov e lei andavano a vespro e le feste alla prima messa e tornando dalla chiesa camminavano fianco a fianco coi vicini teneriti la entrambi esalava un buon odore e il serico vestito di lei frusciava piacevolmente a casa prendevano il tè con pane al burro e varie confetture di frutta poi mangiavano un pastizzo ogni giorno a mezzodì nel cortile e di là dal portone nella via si sentiva uno squisito odore di borsk e di montone o di anatararrosto e nei giorni di digiuno di pesce e non potevi passare davanti al portone senza che ti venisse appetito nell'ufficio bolliva sempre il samovar e ai compratori si offriva il tè con ciambelline una volta alla settimana i due coniugi andavano al bagno e ne tornavano a fianco l'un dell'altro tutte e due rossi non c'è male viviamo bene diceva Olenka ai conoscenti sia l'ode a Dio che Dio conceda ad ognuno di vivere come me e Vacisca quando Pustovalov si recava nella provincia di Mogilioff per il legname ella si annoiava forte e la notte non dormiva piangeva a volte la sera veniva da lei il veterinario del reggimento Smirnin un uomo giovane che alloggiava da lei in un'ala della casa egli le raccontava qualcosa o giocava a carte con lei e questo la distraeva particolarmente interessanti erano i suoi racconti circa la propria vita familiare egli era sposato e aveva un figlio ma dalla moglie si era diviso perché lei lo tradiva e ora la odiava e le mandava ogni mese 40 rubli per il mantenimento del figlio e ascoltando ciò Olenka sospirava scoseva il capo e aveva compassione di lui beh che il signore vi preservi diceva salutandolo e accompagnandolo con una candela fino alla scala grazie di esservi annoiato un poco con me che Dio vi conceda la salute che la regina dei cieli e imitando il marito si esprimeva sempre in modo così grave così assennato il veterinario già scompariva in basso dietro la porta e lei lo richiamava e gli diceva sapete Vladimir Platonice dovreste far la pace con vostra moglie le dovreste perdonare almeno per amor del figlio il ragazzino penso capisce tutto quando poi tornava Pustovalov lei gli raccontava sottovoce del veterinario e della sua disgraziata vita familiare e tutte e due sospiravano scotevano il capo e parlavano del ragazzo che probabilmente sentiva la mancanza del padre poi per non so qual strano corso di pensieri si mettevano tutte e due davanti alle immagini facevano profonde riverenze e pregavano perché Dio mandasse loro dei figli e così i Pustovalov vissero quieti e in pace d'amore e d'accordo per sei anni ma ecco che un giorno d'inverno Vasili Andriais dopo aver bevuto del tebol lente nel magazzino uscì fuori senza berretto per mandare via del legname prese un'infreddatura e si ammalò lo curarono i migliori medici ma il male ebbe il sopravvento ed egli morì dopo quattro mesi di malattia e Olenca restò di nuovo vedova a chi dunque mi hai lasciata colombino mio e la singozzava dopo aver seppellito il marito come farò io ora a vivere senza di te infelice sventurata che sono brava gente abbiate pietà di me povera orfana andava vestita di nero con le pleureuse e aveva ormai rinunziato per sempre il cappellino ai guanti di rado usciva di casa solo per andare in chiesa o sulla tomba del marito e viveva in casa come una monaca e soltanto dopo che furono passati sei mesi si tolse le pleureuse e cominciò ad aprire gli scuri delle finestre già la si vedeva qualche volta la mattina andare a far la spesa al mercato con la sua cuoca ma come vivesse ora privatamente e che cosa avvenisse in casa sua si poteva soltanto indovinare lo si indovinava per esempio dal fatto che la si vedeva prendere il tè nel giardinetto col veterinario mentre lui le leggeva ad altavoce il giornale e anche dal fatto che essendosi incontrata alla posta con una signora di conoscenza aveva detto nella nostra città non c'è una vigilanza sanitaria regolare e per questo ci sono molte malattie si sente dire di continuo che la gente si ammala per via del latte e prende il contagio dai cavalli e dalle mucche della salute degli animali domestici bisogna in realtà darsi pensiero come della salute degli uomini il ripeteva i pensieri del veterinario e adesso era su ogni cosa della sua stessa opinione era chiaro che non poteva vivere senza un affetto neppure un anno e che aveva trovato la sua nuova felicità nell'ala della propria casa un'altra l'avrebbero condannata per questo ma di Olenka nessuno poteva pensare male e tutto era così presto capito nella sua vita lei e il veterinario non parlavano a nessuno del cambiamento avvenuto nei loro rapporti e si sforzavano di nasconderlo ma non vi riuscivano perché Olenka non poteva avere segreti quando da lui venivano degli ospiti i suoi colleghi del reggimento e la versando loro il tè o servendo la cena cominciava a parlare della peste bovina della tisi del bestiame dei macelli urbani e lui si confondeva terribilmente e quando erano andati via gli ospiti la prendeva per un braccio e si bilava rabbioso ma t'ho già pregata di non parlare di ciò che non capisci quando noi veterinari parliamo fra noi per piacere non ti immischiare questo infine è seccante ma lei lo guardava con stupore e ansietà e domandava Volodychka di che dunque devo parlare e con le lacrime agli occhi lo abbrazzava lo supplicava di non adirarsi e tutte e due erano felici questa felicità però non durò a lungo il veterinario partì insieme col reggimento partì per sempre poiché il reggimento si era trasferito in un luogo molto lontano poco meno che in Siberia e Olenka rimase sola ormai era sola del tutto il padre era morto già da un pezzo e il suo seggiolone giaceva abbandonato in soffitta coperto di polvere senza una gamba era dimagrita e imbruttita e per via quelli che incontrava non la guardavano più come un tempo e non le sorridevano gli anni migliori evidentemente erano passati erano rimasti alle spalle e ora cominciavano nuova vita sconosciuta alla quale era meglio non pensare la sera Olenka stava seduta sul terrazzino e poteva sentire come al tivoli suonava la musica e scoppiavano i razzi ma questo non le suscitava più nessun pensiero e la guardava con indifferenza il suo cortile deserto non pensava a nulla non voleva nulla e poi quando giungeva la notte andava a dormire e sognava il suo cortile deserto mangiava e beveva come controvoglia e principalmente quel che era peggio di tutto non aveva più nessuna opinione vedeva le cose intorno a sé e capiva tutto ciò che avveniva in giro ma non poteva farsi un'opinione su nulla e non sapeva di che dovesse parlare e com'era orribile non avere alcuna opinione vedeva per esempio che c'era lì una bottiglia o che pioveva oppure passava un contadino sul carro ma perché ci fosse quella bottiglia o la pioggia o il contadino che significato avessero non poteva dire e anche per mille rubli non avrebbe detto nulla quando c'erano Kukin e Pustovalov e poi quando c'era il veterinario Olenka era capace di spiegare tutto e avrebbe detto la sua opinione su qualsiasi cosa ora invece anche fra i suoi pensieri e nel suo cuore c'era un tal vuoto come nel cortile e provava tanta angoscia e tanta amarezza come se si fosse rimpinzata di assenzio la città poco a poco si estendeva da tutte le parti il sobborgo degli zingari ormai lo chiamavano via e là dove erano il giardino Tivoli e i magazzini di legname erano già cresciute delle case e si era formata una serie di viuzze come fugge rapido il tempo la casa di Olenka si è scurita il tetto arrugginito la rimessa inclinata e tutto il cortile si è coperto di erbacce e di ortica pungente la stessa Olenka è invecchiata imbruttita l'estate sta seduta sul terrazzino e nell'anima sua c'è come prima il vuoto e il tedio e un sentore d'assenzio ed inverno se ne sta sola alla finestra e guarda la neve ma che venga un soffio di primavera che il vento porti lo scampanio della cattedrale e a un tratto i ricordi del passato affluiscono il cuore le si stringe dolcemente e dagli occhi scorrono copiose le lacrime ma questo solo per un momento e poi dimuovo il vuoto e lei non sa perché viva la nera gattina brisca le si strofina e fa debolmente le fusa ma quelle carezze feline non commuovono Olenka è forse questo che le occorre per lei si vorrebbe un tale amore che afferlasse tutto il suo essere tutta la sua anima e la sua ragione che le desse dei pensieri un indirizzo di vita che le scaldasse il sangue che va invecchiando e della scuote via dal lembo della gonna la nera brisca e le dice con stizza vattene vattene non hai niente da fare qui e così un giorno dopo l'altro un anno dopo l'altro è mai neanche una gioia e nessuna opinione ciò che la cuocamavra ha detto anche quello sta bene in una calda giornata di luglio verso sera mentre per la via cacciavano il bestiame della città e tutto il cortile sarei riempito di nugoli di polvere qualcuno a un tratto bussò al portello Olenka andò in persona ad aprire e come ebbe gettato un'occhiata rimase di stucco dirà dal portone stava il veterinario Smirnin già coi capelli bianchi e vestito in borghese di colpo tutto le tornò in mente e la non si poté trattenere si mise a piangere e gli posò la testa sul petto senza dirne nemmeno una parola e nella sua violenta agitazione non si accorse che poi entrarono tutte e due in casa e stettero a prendere il tè colombino mio colombino mio e la mormorava tremando dalla gioia Vladimir Platonis di dove vi è portato il dio mi voglio stabilire qui definitivamente diceva egli ho dato le dimissioni ed ecco che sono venuto a tentare la fortuna e libertà a far vita stabile e poi è anche tempo di mandare il figlio al ginnasio è cresciuto io poi sapete ho fatto la pace con mia moglie e dov'è lei domandò Olenka lei con il figlio è all'albergo ed ecco che io vado cercando un appartamento oh signore Batishka ma prendete la mia casa che le manca per essere un appartamento ah signore ma io a voi non prenderò nulla presa ad agitarsi Olenka che tornò a piangere abitate qui a me basta anche l'ala della casa oh che gioia signore il giorno dopo già verniciavano il tetto della casa e imbiancavano le pareti e Olenka con le mani sui fianchi andava per il cortile e dava disposizioni sul volto le si era acceso il suo vecchio sorriso ed ella tutta era rianimata e più fresca come si fosse destata da un lungo sonno arrivò la moglie del veterinario una signora magra e brutta coi capelli corti e un'espressione capricciosa e con lei un ragazzo Sasha piccolino per la sua età aveva già nove anni compiuti e grasso con gli occhi azzurri chiari e con le fossette sulle guanze e il ragazzo era appena entrato nel cortile che corse dietro la gatta e subito si udirono le sue gaie gioiose risate zietta questa è la vostra gatta domandò egli ad Olenka quando vi farai piccoli per favore regalateci un gattino la mamma ha una gran paura dei topi Olenka parlò un poco con lui gli diede da bere il tè e il cuore ad un tratto le si scaldò in petto e si strinse dolcemente come se quel ragazzo fosse il suo proprio figlio e mentre egli la sera seduto nella sala da pranzo ripeteva le lezioni ella lo guardava intenerita e compassionevole e morborava colombino mio bellezza bambinello mio come sei venuto su intelligente e come sei bianco si chiama isola e gli lesse una porzione di terraferma circondata da tutte le parti dall'acqua si chiama isola una porzione di terraferma ripete ella e fu questa la prima opinione che espresse con sicurezza dopo tanti anni di silenzio e di vuoto nei suoi pensieri ed ella aveva già opinioni proprie e a cena parlava coi genitori di Sasha dicendo come ora fosse difficile per i fanciulli studiare nei ginnasi ma che tuttavia l'istruzione classica era meglio di quella tecnica perché dopo il ginnasio tutte le strade erano aperte se volevi diventavi medico se volevi ingegnere Sasha cominciò ad andare al ginnasio sua madre si era regata a Tcharkov da una sorella e non tornava più suo padre ogni giorno andava chissà dove a visitare degli armenti e accadeva che non passasse a casa per un giorno su tre e ad Olenka pareva che Sasha fosse abbandonato del tutto che nella casa fosse di troppo che morisse di fame e lo trasferì nella propria casetta e qui lo allogò in una piccola stanza ed ecco sono ormai passati sei mesi da che Sasha abita nella casetta di lei ogni mattina Olenka entra nella sua camera e gli dorme sodo con una mano sotto la guanza senza respirare e rincresce a svegliarlo Sasha dice con tristezza alzati colombino è ora di andare al ginnasio e gli si alza si veste dice le preghiere a Dio poi siede a prendere il tè ne vuota tre bicchieri e divora due grossi croccanti e un mezzo pane francese imburrato non si è ancora svegliato del tutto e perciò non è di buon umore ma tu Sasha non hai imparato bene la favola dice Olenka e lo guarda come se lo studiasse prima di un lungo viaggio ne ho dei cruci con te ma tu fa uno sforzo colombino studia da retta agli insegnanti ah lasciate stare per piacere dice Sasha quindi se ne va per la via diretto al ginnasio piccolo di persona ma con un gran berretto a visiera e lo zaino sul dorso Olenka gli va dietro senza far rumore Sasha lo chiama e gli si volge indietro e lei gli ficca in mano un dattero o una caramella quando svoltano nella via dove è il ginnasio lui si vergogna che lo segua una signora alta e grassa si volta e dice voi zia andate a casa ormai ci arriverò da me solo e la si ferma e lo segue con lo sguardo senza batter gli occhi finché egli non scompare nell'ingresso del ginnasio ah come gli vuol bene nei suoi precedenti affetti non uno è stato così profondo l'anima sua non si è ancora mai sottomessa in passato così perdutamente con tanto disinteresse e tanta consolazione come ora che si è acceso in lei sempre di più il sentimento materno per questo ragazzo a lei estraneo per le sue fossette sulle guanze per il suo berretto ella darebbe tutta la sua vita la darebbe con gioia e con lacrime di tenerezza perché chi mai lo sa perché accompagnato Sasha al ginnasio ella torna a casa ad agio tutta contenta calma traboccante di amore il suo viso ringiovanito negli ultimi sei mesi sorride è raggiante quelli che incontra guardandola provano piacere e le dicono buongiorno anima cara Olga Semionovna come ve la passate anima cara oggi dì si è fatto difficile studiare al ginnasio e la spiega al mercato è forse uno scherzo ieri nella prima classe hanno dato una favola da studiare a memoria più una traduzione latina più un problema su via come può fare un piccolino e comincia a parlare degli insegnanti delle lezioni dei libri scolastici le stesse cose che ne dice Sasha tra le due e le tre pranzano insieme la sera preparano insieme le lezioni e piangono mettendolo a letto ella gli fa un lungo segno di croce e mormora una preghiera poi coricandosi sogna quel futuro lontano e nebuloso in cui Sasha terminati i corsi diventerà medico ingegnere avrà una grande casa propria cavalli e carrozza si sposerà gli nasceranno dei figli si addormenta e pensa sempre alla stessa cosa e delle lacrime le collano giù per le guance dagli occhi chiusi e la nera gattina è sdraiata al suo fianco e fa le fusa a un tratto un colpo vigoroso al portello oneka si sveglia e non respira più dallo spavento il cuore le batte forte passa un mezzo minuto poi un altro colpo questo è un telegramma da Tcharkov pensa cominciando a tremare con tutto il corpo la madre vuole sascia con sé a Tcharkov oh signore è disperata le si agghiacciano la testa le gambe e le mani e le pare che non ci sia in tutto il mondo una persona più infelice di lei ma passa ancora un minuto si sentono delle voci è il veterinario che è tornato a casa dal circolo beh si è lodato Dio e la pensa al cuore da poco a poco le cade un peso torna a sentirsi sollevata si corica e pensa a Sasha che dorme sodo nella stanza attigua e ogni tanto dice nel sonno ti farò vedere io vattene non picchiare e la stanza attigua e la stanza attigua e la stanza attigua la stanza attigua e la stanza attigua e la stanza attigua la stanza attigua